E poi dopo andremo incontro all'estate, tutti i posti all'aperto, il locale è molto ampio, sono 120 posti dentro, più 80 fuori. Bella frate, ristorante e pizzeria I Due Leoni, locale ormai veramente che si può definire storico, ventennale, sono qui con il padrone Luca, ben ritrovato Luca. Ben ritrovati a tutti gli amici di Vivi Roma e anche a te Massimo, ben ritrovati al ristorante I Due Leoni. Ho detto locale storico perché ormai quanti anni è che gestisci, cioè che sei il padrone di questo ristorante? Siamo arrivati a 20, sono 18 anni che stiamo qua tutte le sere, dal 2000. Quindi in tempo di crisi economica un ristorante che da 20 anni è diventato un punto di incontro, una realtà consolidata, almeno qui nel quartiere di Roma Nord, nel quadrante Roma Nord, Talenti, Montesacro, è già una bella notizia. Sì, manteniamo la formula, il nostro ristorante è nato su un discorso di mangiare bene, in un ambiente familiare, cordiale, e quindi puntiamo tutto sulla qualità del prodotto. Diciamo, è un posto dove vieni ancora a mangiare, passare una seratina, cioè il mangiare è la prima cosa, senza tanti fronzoli in giro. Qui si viene per mangiare e passare una serata tranquilli, ma soprattutto mangiare bene. Siamo su tutti i tre campi, quindi abbiamo la pizzeria con il forno a legno, la carne e il pesce, che adesso andando incontro all'estate andrà sempre di più. E infatti, caro Luca, questo ti stavo per dire che solitamente i ristoranti, io so, pizzeria e carne, pizze e carne o solamente pesce, qui ai due leoni veramente potete mangiare ottime carni, squisito pesce e buonissima pizza rigorosamente cotta a legna. Sì, cotta con il forno a legno, abbiamo tre pizzaioli, il sabato addirittura quattro, perché la nostra pizza ha avuto così tanto successo che abbiamo messo il servizio a domicilio, su grande richiesta, e vadiamo anche 40-50 consegni a domicilio a sera, quindi addirittura il sabato abbiamo quattro pizzaioli al forno che lavorano in catena di montaggio, uno spiana, due condiscono e un altro in forno. Quindi facciamo consegni a domicilio in un raggio di 10 km, è stato un grosso successo, il domicilio e i clienti a casa che saluto tutti quanti. Chi volesse ordinare una pizza a domicilio, che magari ci sta vedendo, che magari abita nei paraggi di Talenti, di zona Talenti, magari qual è il numero? Sì, 06-8292-169, con consegna gratuita, la pizza arriva calda, perché abbiamo le macchine e non i motorini, e quindi abbiamo anche dei contenitori termici, arriva veramente calda, infatti abbiamo delle ottime recensioni, potete anche andare a vedere su TripAdvisor e sul nostro sito, ci fanno i complimenti in continuazione. Fermo restando, che comunque la cosa principale è che qui in ristoranti e pizzeria si viene a mangiare più, qui insomma il domicilio è una cosa in più, che ha avuto un grosso successo. Oltre scusa che te interrompo, oltre alla pizza, anche se può aggiungere, magari ordina supplie, calzoni, queste cose qui. Ma non solo, ci ordinano le bistecche, i filetti, il pesce, tutto, dall'ala a z, dal menù, come sta qui? La cena, poi ordina direttamente, non ti va da cucina, chiami i due leoni, mi fai, che ne so, un primo piatto di pesce. Sì, diciamo il servizio delivery che ha preso molto piede a Roma, anche con tutte le varie applicazioni gestite, anche i colossi, adesso non faccio nome, fanno portare via, perché a Roma ha preso molto piede questo discorso del servizio a casa. E poi dopo andremo incontro all'estate, tutti i posti all'aperto, il locale è molto ampio, sono 120 posti dentro, più 80 fuori, e chi vuole stare un po' più tranquillo abbiamo una saletta un po' più riservata, insomma, quindi per quello di spazio ne abbiamo veramente da vendere. Anche per, si può sfruttare questi posti, anche per feste private, quindi 18 anni, feste di lauree, e dai una parte del locale a loro disposizione. Sì, ne approfitto per dire, visto che hai citato le feste, adesso andiamo incontro al periodo delle comunioni a maggio, menù a partire da 35 euro, tutto compreso con tovaglia bianca, unico prezzo a Roma, 35 euro a persona, menù completo. Tutti gli eventi sportivi in diretta, in questo momento stiamo assistendo, magari facciamo vedere un gol in diretta. Luca, telegrafico, quali sono le punte di diamante della cucina dei due leoni? Per quanto riguarda il settore pesce, partiamo con un bel antipasto misto di mare, che sono otto portate, quindi sono tutti assaggini caldi e freddi, tutto pesce di ansio. Poi facciamo un bel gnocchi ai frutti di mare, e di secondo vi propongo una bella criata mista di pesce. Per quanto riguarda il settore... Mi ha già messo a venire fame! Per quanto riguarda il settore carne, partiamo con l'antipasto e due leoni di terra, quindi tutti affettati, prosciutti, verdurine, con una bella focaccia, una bruschettina. Poi facciamo una bella bistecca di manzo denese alla pietra lavica, con le patate al forno. E la cuocete al... Come vi piace a voi, direttamente dalla pietra lavica... I primi piatti di terra, oltre alla classica carbonara, marriciana, anche quelli un po' più sfiziosi, non so, grigia con le zucchine, piuttosto che penna alla vodka, tutti i primi classici, ma fatti a mestiere carbonara, cacio e pepe. E per quanto riguarda il settore pizzeria, facciamo un bel fritto misto e un fritto vegetale, tutti i fritti fatti in casa, il fiore di zucca con l'alice dentro, uno per uno lo facciamo noi, niente congelato, supplì fatti a mano, crocchetti di patate e la pizza che è il nostro cavallo di battaglia. Sta bene una certa... Va bene. Luca, diamo le coordinate per maggiori informazioni del ristorante e pizzeria I Due Leoni? Noi siamo in zona Nomentana Talenti, via Ucoglietti 416, non troppo lontano da raccordo anulare, uscita a Nomentano, uscita a 11, parcheggio gratuito a via Ucoglietti 402, c'è anche il parcheggio per la macchina, per il resto, che vi devo dire. Siamo aperti solo la sera, la domenica anche a pranzo, tutte le sere non c'è giorno di riposo. E poi, e poi, per chiudere, se proprio volete, siete quelli proprio, come dire, che volete veramente andare a scovare fino all'ultimo dettaglio, come dovete fare? Fate così, andate su viviroma.tv, vieni, lo vuoi fare tu? Fallo tu, no, fallo tu, fallo dalla telecamera, dai. Fai www.viviroma.tv, cliccate, questa è una sorpresa anche, è stata una sorpresa anche per Luca dei Due Leoni, fate così, sta qua, sta, indirizzario, aiutami, aiutami, cliccate sui Due Leoni, e avrete tutte le informazioni, pagina Facebook, e indirizzo del sito internet dei Due Leoni, vai. La pagina Facebook, cliccate sulla pagina Facebook, lasciate le vostre recensioni, e eccola qui, la pagina Facebook dei Due Leoni, le vostre recensioni, le vostre, la vostra esperienza, qui. E perché qui, mica stiamo a, a smacchiare i bamboli, a smacchiare il giaguaro, o a pettinare i bamboli. Dal ristorante, pizzerei Due Leoni, col mitico Luca, c'è veramente tutto, grande Luca, bella frate, a frappè, i Due Leoni, a talenti, via Ugo Ietti, 416. Aperto tutti i giorni, domenica compresa ovviamente. Vivi Roma tu lo sai, sempre il meglio tu ci dai, sulle mani come me, tutti insieme fate yeah, yeah, a frappè, Vivi Roma tu lo sai, sempre il meglio tu ci dai, sulle mani come me, tutti insieme, bella. Grazie.